Ciao ragazzi, buonasera a tutti, siamo ad Alessandria in Piemonte, un numero imprecisato di single, centinaia e centinaia ragazzi, siamo ad Alessandria, oggi eravamo sul giornale, il resto del Carlino nazionale c'erano i single intorno, se hai comprato il Carlino guarda perché oggi eravamo proprio lì e ora siamo ad Alessandria, super serata dei single, vai! Ragazzi, buonasera a tutti, voglio un applauso caloroso, viva i single intorno, buonasera ragazzi, ma siete fantastici ragazzi, siete un pubblico incredibile, siamo un numero imprecisato, superiore ai duecento, inferiore ai trecento, non lo so, Buonasera a tutti, io mi presento, sono Celestino, sono colui che questa mattina è nel Carlino nazionale, non so se l'avete visto, ci hanno fatto anche l'articolo sul Carlino nazionale ragazzi, i single intorno, i single intorno sono un fenomeno che sta dilagando in tutta Italia, siamo quasi duecentomila ragazzi, duecentomila persone, noi giriamo l'Italia e dove andiamo facciamo sempre il pireno, come vedete, Io sono un po' attorno di Gianni e prego l'Italia e ho inventato questo forum appunto che si chiama serata dei single intorno, noi andiamo, stiamo connessi nel mondo di Galliano, il città e c'era, ma soprattutto noi siamo qua per risvegliare le farfalle nello stomaco sì, avete presente quella sentrafiore che si sente qualche volta nella vita tu da quant'è che non hai il farfalle nello stomaco? da una vita da una vita, bene, questa sera vedrai che le troverai noi abbiamo un metodo infallibile ragazzi voi non dovete flertare solamente con la persona che avete davanti che è quasi casuale perché ovviamente noi non possiamo conoscere 200.000 persone quando vi è venuta una persona che vi piace in giro per la sala dovete prendere carta e penna che trovate in tavola e scrivere un messaggino un messaggino con quello che vi esce dal cuore fuori scrivete a chi dobbiamo portare il messaggio dentro vi firmate con il vostro numero identificativo che vi è stato dato mi raccomando tenete in vista il numerino che vi è stato dato perché non hanno parti, non vi scrive nessuno quindi se volete risvegliare le emozioni ecco questa signora la metto proprio qua sul volante eh ok, davolo che già va tu vedrai che risveglierai le emozioni esatto quindi allora sembra difficile in realtà è facilissimo io prendo già subito il primo messaggio di questa sera eccolo qua il primo messaggio di questa sera va a una donna ragazzi la numero 4 donna numero 4 chi è questa donna? Mattia non sei simpatico per niente sai? non abbiamo comprato la pagina chi è? chi è? donne guardatevi il numero ciao Nani domena numero 4 dov'è? è qua eh che fortuna benissimo vai sei tu tu ah ciao devo dire che i nostri singoli hanno visto per niente 10 10 come si chiama? Sandra da dove vieni Sandra? abita vicino abita vicino ad otto ore cosa fai a livello di vita? lavora perché chi non lavora fa l'amore quindi giustamente e a cosa fai? o per lei hai provato come le api? fantastico bene bene come vorrei sentire i uomini sta perdendo fiato eh come lo vuoi questo uomo? che ho fatto? un aggettivo una cosa che vede assolutamente vera anche quella un uomo simpatico ragazzi serve un uomo simpatico vai dalla numero 4 prego è più vero è molto fortunata eh ci avremo i cuori molto fortunata eh è sì spedendo bene numero 89 ragazzi chi è questa donna fortunata 89 eccola qua 89 sì tu eh che fortuna questa donna appena come ti chiedi? amara amara da dove vivi? guarda ma da fortuna fantastico cosa fai a livello di vita? l'amore con la soluzione lavorare in un'impresa di cui vio vede come vorresti un uomo ideale? il sassatatico carino e allora un uomo simpatico carino che la faccia stare bene 1D ecco vedi tu sei là eccola è numero 89 basta scrivere 89 vedi io ti consiglio questo messaggio spero questo messaggio cambi veramente la propita e buon appetito vai e 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 bellissimi belli веч bene 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 buon appetito tanto ragazzi eh vado 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 sicuramente vado 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 allora numero numero vediamo un po' andiamo avanti numero 45 è 45 45 chi è questa donna fortunata 45 ma in questa fila qui quante donne ci avete piantato dentro ragazzi ma da dove vengono tutte queste donne ciao come li chiami Alessandra anche tu da dove vieni provincia di Genova cosa fai di prendere la vita vende cosa vende quello che capita come vorreste provo a miliano Albo Vigo che bello con il sal in duca e i soldi in tasca i soldi gli ha lei vede, ero commerciante vai, bravo un applauso viste quanto siete belli che meraviglia siete fantastici vai al cin ragazzi vogliamo fare un bel brindisi sui calici tutti un brindisi a tutti i singoli in tour che sono qua viva il Piemonte ragazzi siamo tantissimi un bel cin cin a tutti i singoli che sono qua questa sera vai cicci rollo guardate qui benvenire prego prego ecco qua siamo veramente tantissimi brindisi 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 vai le carte per giocare vai ciao salutate a casa veramente tantissimi ragazzi numero imprecisato di single eccoci qua allora numero 37 37 no quella lì quella lì vai a vedere quella lì vai a vedere non lo so è da lì numero 37 chi è la 37 ragazzi siete dei nostri quei signori là boh numero 37 oh eccola qua la 37 vai dov'è ciao carissima ciao vedi che qua tu hai il dominio della situazione come ti chiami Elena da dove vieni cosa fai di bello nella vita lavora certo come vorresti l'uomo ideale non ha ancora pensato vabbè è ora che ci pensi eh abbiamo quattro ore di tempo vai prego messaggio per te vai è un uomo che ti ha scritto contenta eh beh oh eh beh bisogna essere contenti eh è tutta autostima eh ragazzi eh beh non lo so io sono solo un postino eh ma certo 20 euro beh oh se non mangia vaga 20 euro se no va a casa allora forse ragazzi ho va prego ci siamo numero 39 numero 39 39 ah eccola qua vai benissimo ciao ciao come ti chiami? Maria 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 ti voglio più fresco spostare da dove vieni Maria? da Alessandria ok cosa fai di bello nella vita? operaia operaia bravissimo ok come vorresti l'uomo ideale o devi portarlo a casa te eh io non lo so vedi tu insomma non gli vengono le parole vabbè vedrai che prima di notte ti vengono vai prego eh messaggio eh certo eh è un messaggio tuo benissimo ragazzi eh stiamo andando alla grande eh vai intanto buon appetito eh che non me l'ho detto ancora eh tieni stretto un po' più tardi magari io ho 45 hai detto mi ti non lo vado a 30 quindi li tengo io tieni tutto che tu puoi alla fine ok 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 allora abbiamo degli auguri da fare nell'altro tavolo viate la sala grazie grazie mille buon compleanno Michele mi stanno dicendo ecco qua bene facciamo gli auguri ma ne Michele allora vediamo se abbiamo qualche altro messaggio numero abbiamo un messaggio per la numero 18 ragazzi donna numero 18 chi è questa donna fortunata 18 eeeh e vai ha fatto colpo ciao ma tu come fai a avere il numero come la tua età come farlo a saperlo eh non lo so come ti chiami Daniela Daniela e dove vieni eeeh a cuidare a cuidare cosa fai a cuidare cosa fai a cuidare della vita lavora e vai impiegata come vorresti tu un uomo ideale non lo vorrei non lo vuole vuoi una donna no no è venuta solo per mangiare sì è venuta solo per mangiare non è vero non è vero perché dicono tutte così ma poi alla fine trovano marito e vi ringraziano il giorno dopo ecco qua prego 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 va benissimo andiamo avanti ragazzi allora numero 4 donna numero 4 numero 4 chi è la numero 4 ecco la tua benissimo non è un 4 ma è sempre lei per me è questa rosa che ha tatuato nella schiena non è una rosa cos'è cos'è dimmi dimmi descrittmelo è un papadero mi sono sbagliato però è un fiore vabbè è un papadero che significato ha un papadero sai tu è un segreto è un segreto non si può dire ma bene avanti numero 2 vediamo un po' ragazzi ci vediamo qua abbiamo la numero 61 numero 61 donna chi è questa signora fortunata numero 61 dov'è eccola qua a qualcuno piazza non più è ancora una bella cosa ciao poliziani maria tu ti ringrazio cosa prendo vita lavori in un'impresa di puliti è fantastico benissimo grazie vai come la vuoi non lo sa non lo sa non lo sa non lo sa ma sicuro mi dico ragazzi magari non è più l'impresa non è più l'impresa ma tu vuoi giovanotti che più neanche venendo ora andiamo anche vi lascio i miei minuti per finire però vi dico che molto presto vorremmo passare le bui sì e vi dico non venire più a invitare le donne a farlo bello lento perché le donne hanno essere proteggiate ragazzi non dico quindi adesso facciamo i pronti che vi dico non ci diamo neanche il coltello usiamo il tuo devi girare devi riprendere lui chi balla si fa ma io proprio un po' ballo adesso mangia cosa faccio spengo mi tocca eh sì certo sto scegliendo la mia donna ne prendo tutte e poi ne prendo sto scegliendo la mia donna poi passo e la prendo e poi la mia donna Sto segnando la mia donna ideale Poi ripasso Alla nostra età calma Cosa? Devi dire a Celestino che poi Questo di sì Non lo so Non lo so Cosa? Piacere Renato Piacere Renato Prendila 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 Sto scegliendo la mia donna ideale Poi poi scelgo La quattro La quattro Tutti la vogliono Vai che ti è caduto il tatuaggio Ci casca più Chieda numero tre Donna numero tre Donna numero tre Donna numero tre Non c'era due Non c'era due La quattro scritta Eppure è uno scritto All'ultima rata Parliamo del due Dov'è la tre? È ancora qua È sparita da tre Dov'è? Quella che era qua La numero tre Non c'era la numero tre C'è un messaggio per lei È uscito a fumare Che giudice per lei? Vabbè vorrei parlare Uno simbolo di una vita Che ci devo fare Allora Vorrei capire Se gli uomini di questa sera Sono così romantici Da fare ballare le donne Uomini Fate ballare le donne Le donne vogliono ballare Vi aspetto in pista Vediamo un po' Chi è che Apre le danze Perché voglio quello che ha Sì Dopo Vediamo chi sarà La mia borsa Allora Vediamo un pochino Uomini Allora Forza signori Vediamo Vediamo un pochino 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi voglio mettere a posto tutti. Forza! Forza! Cambiamo lingua. Vediamo se gli uomini capiscono. Ehi! Uomini, fate ballare le donne, porta, spegna! Ehi! 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 Un piccolo fiore per me, se l'odore che mai mi ricorda qualcosa, ma beh, non sono venuto mai, e forse lo so. E quando sento il tuo piacere che si vuole lento, oltre io, tutte le volte che tu vuoi, fate a morire, io poi lascio il sole, e tu lo fanno, non lo fanno bene, non pensavo che far male in te, tutto un cuore male. Sarebbe anche da montare il tavolo là, da prendere via, prima di fare le foto. Sei la cosa più cara che ho, e se mori una fragola, moro anche te, tu o te. Sei un piccolo fiore per me, se l'odore che hai, mi ricorda qualcosa, ma beh, non so dove te vai, e ora lo so. Ragazzi, stiamo andando benissimo, i cofie si stanno formando. Vi dico le persone sedute ad autarsi, che venire a ballare, perché di qui che sforza l'amore. Ragazzi, è una bella seduzione per le farfalle, che sarà. Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, in niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, e domani si verrà. E sarà, che sarà, che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene, peccato perché stavo bene, il loro compagnia. Ma tutto passa e tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra, se la notte piangerò, una legna di paese sonerò. Paese mio, che stai sulla collina, che pula a fronte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra, se la notte piangerò, e una linea di paese sonerò. Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, la noia, la baggono, in niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio in vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita chi lo sa So, fa tutto, forse niente e domani si vedrà Che sarà, sarà quel che sarà Che sarà, che sarà, che sarà Che sarà Magari alla fine Se la notte piangerò Una legna di paese suonerò E sarà, sarà quel che sarà E sarà, sarà quel che sarà Beh insomma ragazzi, qualcosa abbiamo sposto Però io voglio più movimento ragazzi Più movimento, quindi vediamo un pochino Cosa devo fare per tirare su un pochino questi single Che facciano un pochino più di movimento Vediamo un pochino Direi direi che andiamo qua ragazzi Vai Forza Voglio più gente in pista Vai You are mean Mean to me Work is brave Hard to me Walk by day Fly the way Got enough rock Wasn't built in a day Yeah, yeah, yeah In this day and play Just so easy to stress Cause the people are afraid You can never second guess In all that you love time You make to be so I can't get you smile What to make me at all Cause you love me Reveal you When you love me What to make me Baby When you aregirl And my politician Run by day Walk by day Fly the way Don't you�� flipping around What am I receiving In all that you Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah I kissin' your lips and you lie to the head I assess the number once if I get to be fried I can't get to stand what you get to be fried It's you and me, ready to be, working free, waiting out for me Rock by day, by the way, routine not wrong, was a good feeling and pain Yeah, yeah, yeah Woo! Woo, woo, woo! Oh, don't you give it that name? And you and me, ready to be, working free I will be, one by day, by the way, don't you doubt it all, was a good feeling and pain You and me, need to be, working free You and me, ready to be, working free, working free I will be, running out for me, living free You and me, ready to be, working free You and me, ready to be, working free I will be, running out for me, running out for me, by the way, don't you doubt it all, was a good feeling and pain You and me, ready to be, working free You and me, ready to be, working free You and me, ready to be, working free Eh, eh Ehi ragazzi, siete fantastici! Vai, vai, avanti! Ehi! 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 Perfetto! Ragazzi serve un uomo ricco per Giulia Bene, complimenti Thank you Stiamo andando alla grande Bene, bene Vai, ha le idee chiarissime Giulia Andiamo da un maschio ragazzi Uomo 165 Maschio Chi è quest'uomo? 1, 6, 5 Eccolo qua E' lui, è lui Ecco, uomo distinto Sei ricco tu? Sì, non Me la mangio bene Si la mangio bene Come ti dico? Giampiero Giampiero, la donna Arbata scrive Che cosa fai da lì? I draw I draw I draw I draw Alla fama Di essere l'arbitro più buccatore Fate occasione di capito Ehm Ehm Come non lo sciate Quando lei è capitato Quella signora Invece di pagare il colpo L'ha presa le staglie No, no, no Prima parte No, no, no Come vediamo Ragazzi Vabbè Prego, prego Benissimo Bene, bene, bene Allora Numero 51 Ragazzi Donna Che è questa donna Fortunata Numero 51 Eccola qua Ehm Ciao Come mai ci hai passato Davanti E' un po' capitale Come mi diventa? Natale No, no, madonna Novembre Da dove vieni Natale? Novembre Cosa fai di bene La vita? Lavoro Lavoro E' un po' bellissimo Celettino Ma poi è il maschio Che là Non lo so Ricco Come lo vuoi Lavoro Non c'è Come lo so Come voi Lavoro Non lo sa Non lo sa Ricco 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 Un mondo ricco Ragazzi Seguo i giorni Guarda Ah si Lo so Grazie Thank you Benissimo Buon appetito Intanto mi sta mangiando Ho un messaggio per un'altra donna La numero 3 La numero 3 è l'ultima signora che è arrivata prima Eccola qua Numero 3 Vai Ciao Dov'è? 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 Ciao Cosa fai nella vita? Cosa fai nella vita? Cosa fai nella vita? Actore Actore E' un'attrice ragazzi Fantastico Infatti è bellissima questa notte Come vuoi Va bene Io ti auguro una buona serata E me dai simi Thank you very much Thank you Vedi ragazzi Stiamo andando a grande Oh Signora mia Mi piace andare Facciamo una piccola pausa Oh guardate qua che Abbiamo un uomo muscoloso 131 Come di chi anche? 131 Nicola Da dove vieni? Asti Oh asti Salutati Anni fa Andavamo alla Fertà Siamo stati 3-4 volte Prima del Coro Alla Fertà Ascolta tu Quante volte mi concorriamo a fare un giorno? 30 Sei nato così Vado allo sport E ci entro a Prato Come la vuoi la promulterà? Bella Stasera Dovrei pagare anche l'uscita Penso Esatto Vabbè Ok Grazie Grazie Buon appetito a tutti ragazzi Adesso vi lascio mangiare Una Vi preveremo subito Ragazzi Volevo ricordarvi Che Qui con noi Direttamente dal programma televisivo Appuntamento in crociera Su Real Time Abbiamo un personaggio In incognito Che si svelerà Durante la serata Quindi qui in mezzo a noi Abbiamo un VIP Ragazzi Un VIP Un personaggio televisivo Io non so chi è Però Durante la serata Si svelerà Quindi Questo ve lo dico Sarà un po' la sorpresa Di questa sera Ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 come vorresti. a tutti. da tutti. a tutti. a tutti. complimenti. a tutti. 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 come. a tutti. forza. a tutti. a tutti. con tutti. con tutti. con le mani se vuoi. con tutti. a tutti. con le mani. con le mani. con le mani. con le mani. su di me. con le mani. con le mani. a tutti. 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 a tutti.